Se non manca il safe, la vita Compretti prima una Io volevo comprare delle piastre, però mi fattore sta No, 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 no! Ahahahahahahahahahahahahahah Come giugato! Eh io peròきardo Ero il passato Non mi piace Oh come so Non mi piace Non sapevano Ero il passato Ero il passato Era sul scala Ero il passato C'è il passato Che guarda Di quello! E' un coltato! Dov salvatta poi me la faccio vedere